Un'estate al mare Ma quale estate al mare? Ora in spiaggia ci si va anche fuori dalla bella stagione. E' già oggi infatti, 23 settembre, è il primo giorno d'autunno e sulla riviera adriatica c'è chi sfida il calendario e, complice un sole splendente, si va a godere gli ultimi scampoli di caldo sulla spiaggia. I concessionari infatti hanno lasciato qualche ombrellone e han fatto bene. Il mare, anche con le belle giornate di fine settembre, è molto allettante. Le spiagge appollate sono solo un ricordo e, giustamente, c'è anche chi, armato di metal detector, vuol far bottino e allora ispeziona la sabbia in cerca di oro e preziosi persi dai bagnanti durante le ferie. Fatto sta che a fine settembre in spiaggia si ritrova la giusta dimensione del relax. E' bellissima, tranquilla, serena, non c'è nessuno, si gode il mare, il sole, la tranquillità. Fuori stagione inoltre i prezzi sono più bassi e in riviera arrivano anche i turisti provenienti dai paesi dell'est, come questi ragazzi polacchi. In Italia in settembre c'è più vita che in Polonia a giugno, per noi è bellissimo. Insomma, il mare d'autunno, finché il tempo regge, è più invitante che mai. Solo relax e niente seccature, o quasi. Meno persone, meno confusione, meno problemi collegati con l'abbondanza e con l'eccessivo numero di ombrelloni raggruppati. La tranquilla sicurezza al massimo di essere disturbati da qualcuno che ti intervista. Grazie. Grazie.